Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video del canale, oggi voglio parlare di carramati su fortnet che sono alcune cose che fortnet dovrebbe un po' rimandare, però la stagione 9, penso che la stagione dovrebbe fare per forza il 19 marzo perché la stagione è dietro l'angolo, la stagione 2 del capitolo 3 è dietro l'angolo però prima che iniziamo a parlare vi dico di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale, di lasciare un like ditemi in questo video come se siete in hype di questa nuova stagione di fortnet io spero che faranno un successo come season perché in queste ultime season di fortnet non è che la facciano troppo successo come season però passiamo alla stagione 2 del capitolo 3 qualche giorno fa ho fatto vedere lo Star Trek Pack, già lo Star Trek Pack è carino a me non piace tanto però, tutta la community forte potrebbe piacere però sinceramente a me lo Star Trek Pack non fa nemmeno il caldo nel freddo che ci sta, ci sta come skin ma il Star Trek Pack da 4 euro poi, comunque, questo qua che vedete nell'immagine non sono i carramati, è una trivella dell'ordine immaginario però non so che mettere però voglio farvi vedere la trivelle o qualcosa del genere però nella prossima stagione non so se avete sentito in questi giorni che aggiungeranno i dirigibili tipo come nella stagione 9 del primo capitolo se vi ricordate bene che è stata per tutta la stagione 9 sinceramente a me sarebbe bene come season di guerra perché faranno la guerra tra ordine immaginario versus i7 i carri armati, ma parliamo dei carri armati i carri armati, secondo me nella prossima stagione se la stagione 2 uscirà il 19 marzo secondo me il 19 marzo penso ancora che questa guerra che sta succedendo in questi ultimi giorni della Russia l'Ucraina non penso che i carri armati il 19 marzo quando uscirà proprio la pace della nuova stagione usciranno, se è sempre ancora in corso questa guerra contro i paesi eccetera se ci sarà ancora il 19 marzo non penso che giungo i carri armati secondo me i carri armati giungeranno tipo nel corso della stagione oppure tipo a maggio no maggio no perché pensavo a fine stagione aprile 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 i carri armati potrebbero aggiungere tipo a fine aprile del 2022 penso che i carri armati adesso penso che le persone che aggiungeranno perché se usano i carri armati penso che faranno tipo Russia contro Ucraina penso però per questo se fosse l'epic non lo aggiungerei tipo nel corso della stagione quando finisce questa guerra comunque un giorno io ma questo qua parlo dei carri armati che penso che aggiungeranno fino aprile quando finisce questa guerra però io lo sapete che ho pensato qualche giorno fa di fare un video con tipo di questo fatto qua Russia verso Ucraina però poi gli avevo detto meglio di no perché vorrei parlare tipo di videogiochi vorrei parlare della vita reale per questo non l'ho fatto questo qua era quando parlo dei carri armati su Fortnite ehm io spero che questa stagione 2 sarebbe bella non come le altre tipo la stagione 6 la stagione 6 era bruttissima all'inizio stagione era bella però poi eh brutta un po' questo qua era la mia opinione dei carri armati su Fortnite e noi ci vediamo ad un prossimo prossimo video ciao ciao